Penso che è stata una partita giocata a scacchi sia da noi che da parte loro. Se andiamo a vedere bene le conclusioni, le palle e gol che ha avuto la Juve, le palle e gol che abbiamo avuto noi, penso che siamo quattro loro, tre noi. Sicuramente la palla sul calcio d'angolo potremmo fare meglio e ci ha penalizzato quella roba là. La partita è stata giocata per come l'abbiamo preparata. Sicuramente ci è venuto a mancare qualche giocatore di qualità, non ci ha dato continuità, ma ci stava. Perché anche sia noi che loro, il terreno di gioco oggi non ti aiutava, non è una scusa. Non voglio mettere in mezzo il terreno di gioco, ma il terreno di gioco non era all'altezza delle due squadre oggi. Perché era un terreno di gioco che non era perfetto e penso che qualcosa ha contribuito per la qualità dei nostri giocatori. C'è solo... ringrazio la squadra per quello che ha dato, perché secondo me abbiamo fatto a tratti molto bene. Sicuramente dopo l'1-0 siamo svegliati, abbiamo cambiato qua a Cusino. Però la prima palla e gol l'abbiamo avuta noi con Lozzano. Netta, abbiamo sbagliato il rigore, il 94esimo è incredibile quello che siamo mangiati. Penso che alla fine sicuramente a livello qualitativo potremmo fare qualcosa in più, ma c'è da dire solo grazie. Ringrazio solo i miei ragazzi. Sicuramente, secondo me, ci è venuto a mancare la qualità. Zero ha fatto una buona partita, però ha fatto molto meglio tantissime volte. L'abbiamo trovato pochissimo nella tre quarti. Ciuchi ha fatto una buona partita, ma ultimamente ha fatto molto meglio. Lorenzo uguale. Capisci che un po' di qualità ci è venuto a mancare. E noi, se vi è andato a vedere, anche loro avevano provato a fare un qualcosa di diverso. Giocavano, hanno verticalizzato tantissimo. Ci volevano prendere in verticale con Cristiano Ronaldo e con Luseschi. Abbiamo letto bene le letture che dovevamo fare. Se devo fare il paragone di sette mesi fa, la finale di Coppittale, oggi penso che la differenza è poca. Abbiamo avuto un po' di sfortuna e sicuramente dai punti la Juventus ha fatto qualcosina meglio di noi. Ma sapevamo, devo dimostrare il fatto, la rosa che hanno. Mancano tantissimi giocatori, hanno messo una squadra di valore. Però penso che il mio e il Napoli alla fine si è fatto rispettare. Abbiamo fatto quello che abbiamo provato. Sicuramente se c'è il rammarico potremmo fargli del male a livello qualitativo. Penso che in questo momento non posso, non concordo con te al 100% quando dici che è stato un passo indietro di maturità. No, abbiamo fatto quello, ripeto. Alla fine questa è stata una partita che si andiamo a analizzare bene. È una partita che è stata vinta su degli episodi. Lorenzo è la prima cosa che deve fare, perché non deve sentirsi le responsabilità. I rigori si tirano, si possono sbagliare. La partita l'abbiamo persa tutti. Il primo responsabile della sconfitta la sono io, ma assumo le responsabilità. Non l'abbiamo persa per colpa di Lorenzo sicuramente. Abbiamo il dovere di rialzarci, perché abbiamo ancora, se non sbaglio, 20 partite di campionato. Abbiamo un andato e ritorno di Europa League, abbiamo un quarto di finale. Se l'obiettivo è di ricaricare le pile, testa alta, sicuramente Lorenzo non si deve sentire responsabile di nulla. Fa male vedere un giocatore piangere, ma lo so com'è fatto, perché ha la maglia del Napoli cucita addosso. È un ragazzo che col gol di oggi poteva fare 100 gol e portarci ai supplementari, ma nel calcio ci sta. Una colpa domani è un altro giorno e bisogna ricaricare le batterie e guardare avanti. Non deve perdere nessuna energia, perché se l'ha sbagliato, mi sbagliava Pelé, mi sbagliava Bonanami di Maradona. Penso che può sbagliare in segna. Nel saliscende lo pensi te. Io in questo momento devo il dovere di dare continuità e coraggio ai miei ragazzi. Le finali si possono perdere. Non abbiamo perso con degli scappati di casa. Abbiamo perso con una squadra che è da nove anni, che è campione d'Italia, ha un budget di più di 300 milioni. Dopo dipende come uno vuole eleggere i saliscendi. Te fai la giornalista e hai i saliscendi. Da buongiorno me lo spieghi, perché dici saliscendi. Siamo una squadra in questo momento che abbiamo fatto 17 partite, non per te recuperare. Siamo terzi in classifica. Ci siamo giocati una finale, perché arrivarci in finale ci vuole sempre avere una squadra forte. Noi ci siamo arrivati, ci siamo giocati e speriamo di ritornarci il più presto possibile.